Ben trovati ed eccoci al nostro appuntamento del martedì con il Mixed Media. Questa mattina praticamente sarà l'ultimo appuntamento per quanto riguarda il morning journal. Infatti sul blog troverete gli ultimi consigli per questi appuntamenti che abbiamo fatto parlando del morning journal. Il mese prossimo vediamo che cosa troverò per interessarvi. Allora questa mattina la carta che mi è uscita come buongiorno è stata ridere, l'out, l'out ridere. Bene oggi ridiamo allora e vi propongo questo nuovo lavoro con il Mixed. Allora ho iniziato semplicemente utilizzando due colori che non avevo mai usato, sono della linea della Art Alchemically della prima marketing e sono due colori acrilici ma più liquidi e devo dire molto più trasparenti come effetto. Poi invece ho aggiunto questo violetto dell'americana e il bianco per dare meno, per togliere un pochettino la parte più forte del colore e ho fatto entrambe le pagine. Bene adesso vorrei lavorare oggi con uno stencil che avevo fatto tempo fa avevo ritagliato, avevo creato questa questa sagoma molto carina che ho trovato sul web tra l'altro con questo cuoricino. Quindi mi sono ritagliata io questo stencil. Bene adesso andiamo a lavorare. Con la parte ritagliata sia di qua che di qua vado a crearmi la mia figura, il mio stencil. اذ per aver guardate vai indicato è sempre l'ottima che mi sembra deve s evolved in una non è venuto perfetto direi che ci possiamo stare lasciamo che asciuga usando l'acrilico turchese questo bellissimo colore ho fatto un pochino di sfumature con il colore e cosa ho fatto? ho utilizzato la parte negativa quindi mettendola questa è bella perché la potete ovviamente girare da ambo le parti ho usato la parte negativa e ho rifatto un pochino il bianco in modo da dare un pochino più di tono poi coprendo con la parte positiva ho sfumato con un pochino di turchese qui ho sfumato molto meno ho usato proprio poco poco giusto per dare un'idea dopodiché con il cuoricino ho fatto ho creato il questo piccolo spazio e adesso vado a completare usando altri colori e ovviamente voglio colorare lei diventerà una lei mi piace moltissimo come sta venendo questo lavoro mi dà molto forse perché è l'ultima pagina quindi non lo so c'è quella sensazione quell'emozione magari più forte come se si chiude un capitolo ovviamente io faccio la morning routine tutti i giorni però l'avervene parlato in questo modo spero che porti anche a voi qualcosa in più e anche voi possiate cominciare a fare questa routine del mattino allora questa è la pagina che ancora devo completare questa è la pagina che ho completato ho utilizzato come vi dicevo la sagoma che mi sono ritagliata lo stencil che ho ritagliato questo qua questo stencil questo quindi il vuoto e il pieno ho usato anche il cuore per creare questa figura il cappellino è in tessuto tutto il resto ho usato acrilici come vi dicevo ho usato questi due che sono molto ma molto più leggeri come tipo di colore ho usato il viola ho usato questo blu azzurro blu bahama ops scusate poi ho usato dunque cos'ho ancora usato vediamo ah si ho usato i posca e il pennarello nero per completare un po' tutto questo ho contornato la figura ovviamente poi ho scritto delle parole queste ovviamente sono parole che dovrete scrivere voi io ho usato quello che era per me un modo di ricordare questi momenti mi sono divertita con tutti questi piccoli segni e anche qui ognuno deve trovare il suo modo il proprio modo per dare un segno alla pagina ho nuovamente usato journaling creativo del mattino ho usato l'uniposca vabbè questo ve l'ho già fatto vedere io non sono bravissima nel fare i volti però diciamo che questo mi piace è venuto simpatico come come volto ovviamente migliorerò io non sono un'esperta nel fare i volti però ripeto sono quelle cose che via via si imparano adesso provvedo a fare l'altra pagina terminata anche la seconda figura mi piace mi piace moltissimo sono contenta di quello che ho fatto e vi saluto con queste due immagini come vi ho già detto i prodotti che ho usato li ho già descritti prima l'unica cosa in più ho usato questa scritta che è molto molto carina fatta su questi fogli di trasparenti ho ritagliata e l'ho aggiunta qua ovviamente ho usato il mio fantastico gel questo assolutamente sempre ho usato un po' di nuvo questa crema molto morbida e bellissima perché da sia di qua che di qua da questo tono un pochino più luminoso poi ho usato gli splash questi qui della Ieda e basta poi mi sono divertita un po' a segnare appunto a fare piccoli segni piccoli simboli e direi che ho concluso questo journaling creativo e vi do appuntamento a martedì prossimo con una nuova un nuovo mese che cominceremo con una nuova proposta vi saluto e al prossimo incontro